Radio Stereo 5 presenta CNA Cuneo, dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18 e 10 e ogni martedì alle 11 e 10. Bentrovati, oggi siamo in compagnia di Giacomo Rinaudo, consulente alle imprese presso la Camera di Commercio Italiana di Nizza. Bentrovato. Buongiorno. Parliamo oggi di un webinar che si terrà il 18 giugno, nello specifico alle ore 17. Ecco, il tema di questo webinar saranno i trasporti e i legami fra Francia e Italia. Vogliamo approfondire l'argomento? Sì, esatto. Questo webinar si colloca in una serie di appuntamenti. Avevamo iniziato prima, diciamo, della fase di confinamento. Si era svolto a Nizza lo scorso 5 marzo, appunto, una conferenza sui trasporti internazionali che aveva riscosso molto successo con intervenenti sia dal lato francese che dal lato italiano. In questo caso, invece, appunto, questo webinar tratterà più nello specifico le problematiche che hanno riscontrato le imprese in questo momento di difficoltà e le soluzioni alle prospettive future. Chi parteciperà a questo webinar? Si parteciperanno, oltre a soggetti istituzionali come la Vindonis e la città di Genova, nonché il Comune di Limone Piemonte per un aggiornamento sui lavori al tunnel di tenda. Quindi la domanda è, possiamo essere ottimisti in questo senso? Ci sarà invece poi una parte dedicata a un approfondimento più legato al mondo delle imprese, quindi con la presenza di esponenti di Alitalia, Tello, oltre che alle associazioni di categoria dei trasportatori merci, sia francesi che italiani, tra cui Astra Cuneo, l'associazione appunto di riferimento del cunese. E questo webinar è ovviamente organizzato in collaborazione tra CNA Cuneo e la Camera di Commercio Italiana di Nizza. Chi volesse partecipare, cosa deve fare? Attraverso i canali istituzionali della Camera di Commercio Italiana di Nizza e di CNA verranno inviate le locandine di iscrizione con il link per poter accedere alla presentazione e quindi partecipare al webinar. Bene, non ci resta che ricordare l'appuntamento il 18 giugno alle ore 17. Ringraziamo e salutiamo Giacomo Rinaudo, consulente alle imprese presso la Camera di Commercio Italiana di Nizza. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, buona giornata. CNA Cuneo è il programma di Radio Stereo 5 dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10.